Sono problemi, sono abituato, andavo a piedi e sono abituato. Sono abituato, sono abituato, e sono abituato. Sono abituato, sono abituato, e sono abituato. Ma da onde è che questo qua non è passato? Ma è morto, un bacio che mi ha rotto là. Non mi sembra che è saltato a l'interno, ma qui suonare di fianco. E lì c'era un sasso morto o no? Come che suonare in cima del sasso che aveva donato? E io c'ero davanti che mi passavo la strada. E' carino però no? Eh, anche qui si... Bisogna essere decisi. Io mi dico sempre, piuttosto... Mi dico no, piuttosto di non so arrivare le oce in un punto. Come puoi dire? Rivo qua che te freni. Mi dico perché va dei video che ti chiamano già. Freni acqua e dopo muori tutto. Anche dai, è meglio. E' quella lì, hai capito. Perché ti senti prima i video, c'è? No. Non ti senti il tempo di dire da che parte vado o come passo. Invece che con il video mi ha detto... Hai capito? Ti senti che si... Comunque, dai, che questo... Sono meno o dopo meno. No, questo qua mi fa più facile col pezzo lì. Sì, sì. È vero? Sì che bisogna incanagarsi. Eh, ma non sono amici. Tu sei tanto un qua, qua possibile non è. Guarda, guarda quanti hanno russato là sulla roccia. No, ma che può essere molto di... Eh, ma è pedale, pedale. No, ti impari. Ormai... No? Vediamo. Parmi no. Quindi devi pensare che dopo... Se non proprio che te sbagli... Eh... Considera poi che... Eh, che c'è. E' idosso? No. Due parti, noi pedale... Ma adesso devo... Non devo seguire proprio bilanciare. Oltre tu che da una parte o da l'altra? Eh, tocchi perché poi... L'abbassamento del peso... Eh, miserio Dio. I tanti che mi sa fare... La fai passa in mezzo con il video. Ma beve, l'unico punto è che... Che cosa fare fa di lì? Eh? Non manca una cosa. E ti dò un po'. Che salto che dè? Dritti, dritti. Dritti. Bisogna venire con il capello. Fa un po'. Ahahahah. Tagliare un po'. Il... Eh. Voglio che... Il salto lì... Non si è il figlio che si riuscava. Ma si riuscì. Quale salto? Lì. Si riuscita tanto davanti. Eh. Hai visto una via tranquillo. E così via anche a me. Infatti sta bene così. Sare tanto piano. Si riuscita davanti. Ma devo... Da bene d'ora. E così via. E così via. Grazie a tutti.